Ciao! Queste non sono essenze? Eh, sì, in bagno. Ora vado un attimo di là. Va pure. Ma che cosa credi di fare? Talgo di mezzo lo stress. Senti, io ti capisco, ma sappi che questa non è una versione da bagno per maschietti? Oh, la cosa non ti tange quando sei così rilassato. Eh, va bene, resta pure lì dentro, ma mi prendo la nave da guerra. Ciao, bella signorina. Ciao, bellezza al bagno. Senti, io sono solo passata a dirti come è andata con Joy. Tu gliel'hai detto? Lei me l'ha estorto, è stata così insistente. E com'è andata? Allora, ti sbagliavi, non gli interesso io. Cosa? Sì, tu come reagiresti se io ti mandassi a casa di Robert De Niro dicendo che lui ha una cotta per te e una volta arrivata lì tu ti accorgessi che non è vero? Non ci perderai il sonno. Sul serio, a te non piace De Niro? C'è nessuno? Siamo tutti in bagno! Perché? Perché era un'esperienza così rilassante. Che ci fate qui dentro? Oh mio Dio, un'amica a cui guarda con occhi diversi? Ma è sbagliato. E Rachel! Ti piace Rachel? Sentite, non è niente di serio, ne ho parlato con Febbe. È solo una cotta che passerà tra qualche giorno e tu sistemati quelle bolle. Mh, niente male. Ehi! Oh, ciao! Ciao! Rossa e io vi stavamo cercando. Ma che ci fate tutti qui dentro? Oh mio Dio! Tesoro, copriti con questa. C'è nessuno? Sì, rossa, siamo tutti in bagno. Perché non ti unisci a noi? Ah, ehi! Come mai questa riunione? Uh, bella nave! Oh no! Ehi, gliel'hai già detto? No, ti stavo aspettando! Detto cosa? Sarà una femminuzza. Oh, ma davvero! Oh, ma davvero! Noi rimandiamo, d'accordo! È merda!